Dottor Procton, il radar segnala un oggetto volante non identificato a 30 chilometri. Potrebbe essere l'apparecchio di Alcor, mettiti in contatto, dagli il punto di atterraggio. Signor sì, qui istituto di scienze spaziali, mi riceve TFO, passo. Qui TFO, passo. La base di atterraggio è North Sky.035, distanza 7 chilometri. Ricevuto. Alcor che rischia tutto per sé, alcor che mai non penso a sé. Ancora in alto, nessun nemico fiume a voi come un faccio. E la soffreda sono quelli che impegna, e se per caso perde non si rassegna. E anche a merito non la tro. Quando la terra sta pace, lui ricorda un ragazzo di pace, che con assa non so che scherza come te. Ma se c'è un disco che attacca, mette il casco con nuova la giacca. E con faccia in pavio e stiamo con i coltri. E alcor che rischia tutto per sé, alcor che rischia tutto per sé. Alcor che rischia tutto per sé, alcor che rischia tutto per sé. Per annunciare il libro? No. Per annunciare il seguito? No. Per salutare? Per salutare Fabrizio Mazzotta? No. Anche Mazzotta ovviamente. Ovviamente lo salutiamo. Abbiamo davanti il mitico Daniele. Vabbè, Jaffi, eh, cacchio. Jaffi. Jaffi lo dobbiamo salutare, Fabrizio. Eh beh. Jaffi, ti salutiamo direttamente dal Torino Comics. Alza la musica che qui c'è. Jaffi, ti salutiamo dal Torino Comics. Grande Jaffi. Occi Caputo e Duke Fleet. E assolutamente, assolutamente, ti diamo appuntamento, ne abbiamo già parlato anche con il mitico Dan, a Luca Comics. Assolutamente sì, appuntamento a Luca Comics con il nostro secondo raduno nazionale delle cartughe. Secondo raduno nazionale. È un onore per me partecipare. Dove annunciamo anche che oltre alla presenza di Marco, Sarro, Davide Laghi, ci sarà anche Fausto. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.